mi senti bene disturbato con ok leggermente metallico e oltre questo pensi che ci la mia voce ti arriva sempre ti sta arrivando ok va benissimo grazie ciao ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono armando e te lo recensiono questa volta vi ho portato le y60 sono altre cuffiette sempre da acquistare da aliexpress arrivano in questo pacchettino così trasparente dove al suo interno troviamo il case con le cuffie manuale di istruzioni che devo dire veramente ben fatto perché almeno questa volta è di una carta un po più rigida e il caricatore usb micro usb questo è il case power bank ingresso per caricare le cuffiette con la porta micro usb quando il case è completamente carico vedete che sulle sui lati troviamo due led verdi e si sta caricando quindi se lo abbiamo sotto corrente per caricare il tutto i led da verde diventano rosso lampeggianti e rosso fisso nel momento in cui si è caricato tutto le cuffiette si collegano in automatico come potete vedere qui abbiamo un solo tipo di gommino per il nostro orecchio quindi sono in irancio a queste comunque permetterebbero ad avere un audio performante sopra vediamo che c'è il pulsantino con il led stessa cosa dall'altra parte iniziamo a inserire le cuffiette per in ok collegate se andiamo a vedere nelle impostazioni del bluetooth andiamo a vedere che ci si collega con questo tws y così l'audio già è forte si sente bene buono tra alti e bassi non sono di quelle cuffiette dove si sente solo alto oppure soltanto basso dove senta soltanto gli altri soltanto i passi sembra essere ben bilanciata quindi già una grande cosa provo a fare una telefonata per vedere almeno in fase di telefonata se il il bluetooth risponde bene ricordo che il bluetooth è il 5.1 almeno così c'è scritto la voce leggermente metallica quando arriva dall'altra parte però arriva bene si riesce a sentire quello che io dico dall'altra parte invece la sua voce l'ho sentita veramente in maniera impeccabile quali sono le funzioni delle cuffiette come il solito play pausa se in fase di telefonata premi una volta rispondi tieni premi un'altra volta si stacca in fase normale si tiene premuto per due secondi o la cuffietta destra o la cuffietta sinistra se ci avete una libreria musicale partono le musiche se premiamo due volte tac tac sulla cuffietta lato sinistro mentre stiamo ascoltando una canzone il volume aumenta dall'altra parte lato destro il volume diminuisce invece per far funzionare l'assistente vocale basta premere tre volte 1 2 3 e parte l'assistente vocale o destra o sinistra e la stessa identica cosa le cuffiette si possono utilizzare anche singolarmente vengono anzi forse da un lato è meglio perché così a meno che non state andando a correre o stare facendo qualche allenamento magari con una cuffietta riuscite a mantenere più tempo la fase di carica della della cuffietta stessa tempo di ricarica circa due ore e possiamo ricaricare in circa 3 4 volte le cuffiette se il case è completamente scarico vi consiglio di fargli fare una bella ricarica anche se comunque si stoppa in automatico e lo stand by invece di queste cuffiette inserite all'interno del case è di circa 80 ore ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le mie future recensioni cosa ne pensate quindi di queste y60 se le avete utilizzate o le avete comprate o stavate pensando di acquistarle lasciatemi un commento noi commenteremo insieme ciao ragazzi e alla prossima ciao 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 ciao